Musica L'aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ampio dibattito tra i consiglieri. Nel mezzo del cammin, la Divina Commedia con i volti degli abitanti di Pontassieve e non solo, presentato nella sede del Consiglio regionale, il volume con gli scatti d'autore di Palmiro Stanzucci. Sanità, la clinica di riabilitazione toscana, polo di riferimento del settore, alla struttura di Terra Nuova Bracciolini e alle sue attività, guarda tutta la Toscana meridionale. Erp sì alla nuova legge toscana L'aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato dopo un lungo dibattito è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni, dopo aver trovato la sintesi in un emendamento, prima firmataria Elisa Montemagni della Lega e sottoscritto anche dal presidente del gruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, che prevede l'obbligo per i cittadini ad esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e che non autocertificano residenza fiscale in Italia, di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Nelle dichiarazioni di voto, il consigliare Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, rivendicando la dignità del Consiglio regionale, il lavoro svolto in aula e in commissione, si è soffermato sull'importante modifica avanzata dal proprio gruppo che premia la storicità della residenza. Il Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla giunta regionale, introducendo come criterio premiale la storicità della residenza. E quindi la legge che è uscita dalla commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero, due punti anziché zero per cinque anni di residenza, tre punti anziché due per dieci anni di residenza, a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente, riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana e in particolar modo nelle città toscane. Questa la posizione invece di Lega, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti. Quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Quindi accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza, è quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero, perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero. Quindi per il principio di equità, così come lo dimostrano i cittadini italiani, ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri per poter avere una casa popolare in Toscana dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza. Quindi questo è il principio cardine su cui oggi noi ci stiamo battendo, per cui questa discussione si sta protarrendo per diverse ore. La Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50 mila alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione, di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Ma è una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione, si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale. Noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo noi è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega si arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano. Queste persone non meritavano questo ritardo. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda e che noi abbiamo sbagliato e ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare. Quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti anche case popolari sfitte, senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno. La Divina Commedia rivive attraverso i volti degli abitanti di Pontassieve Riproporre nell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante le terzine della Divina Commedia coinvolgendo la popolazione di Pontassieve e del territorio fiorentino, ma anche tanti toscani famosi in una collezione di vere e proprie tavole viventi, con persone e ambientazioni reali in una rilettura attualizzata e storica al tempo stesso. È questo l'obiettivo del libro fotografico nel mezzo del cammin realizzato dal corteo storico di Pontassieve curato da Alessandro Sarti e Marisa Boschi, con 67 foto d'autore di Palmiro Stanzucci edito dalla scriveria di Serena Pinzani. Una pubblicazione presentata nella Sala del Consiglio regionale che ha il nobile fine di raccogliere fondi per un progetto culturale in favore del Banco Alimentare di Pontassieve I protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche ma è un libro davvero originale e particolare La cosa difficile è stata all'inizio che abbiamo iniziato a girare, anzi a scattare e in emergenza Covid eravamo in zona rossa quindi massimi accorgimenti di sicurezza, massimi accorgimenti di distanziamento anche negli scatti con le sterilizzazioni avevamo 4 set preparati perché il comune di Pontassieve ci ha offerto una delle sale più importanti dove abbiamo allestito un set Tra i protagonisti dei 67 scatti il presidente dell'Assemblea regionale Antonio Mazzeo Questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta per avvicinarlo a tutti e lo facciamo chiedendo, avendo chiesto il volto a tanti toscani famosi quindi grazie anche a chi si è reso disponibile per questa iniziativa benefica perché ogni iniziativa benefica deve avere le istituzioni al proprio fianco Il compito delle istituzioni, ho sempre detto, è quello di sostenere chi è più in difficoltà di sostenere chi con fatica è vicino agli ultimi e questo va esattamente in quella direzione Noi, come sapete, abbiamo messo in campo tantissime iniziative per i 700 anni della morte del sommo poeta Da un lato l'avatar, dall'altro l'attualizzazione attraverso queste fotografie diamo il senso di come si possa riportare nell'attualità i grandi messaggi che Dante ci ha mandato 700 anni fa A prestare il volto a questa iniziativa anche Cristina Manetti, presidente del Museo Casa di Dante Sono felice perché questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale i 700 anni e la morte di Dante di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli di uno dei libri più letti del mondo che è la Divina Commedia e gli dà il volto moderno delle persone di oggi quindi, come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente L'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene perché il ricavato, sappiamo, va al Banco Alimentare di Pontassieve quindi è un'occasione che unisce, diciamo, l'aspetto culturale all'aspetto benefico quindi complimenti davvero e possiamo essere felici di questo bellissimo libro Il libro è impreziosito dalla presentazione dello storico Luciano Artusi Il volume, patrocinato da Comune di Pontassieve, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve Comune di Firenze e Società Dantesca Italiana è stato realizzato grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana e della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Clinica di riabilitazione toscana, un'eccellenza della sanità regionale La Clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova Bracciolini, in provincia di Arezzo è il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale In pochi anni, dal 15 luglio 1999, data della sua costituzione formale una società per azioni a prevalente capitale pubblico è diventato non solo parte integrante del sistema sanitario regionale ma anche del sistema di ricerca nazionale nel settore con la volontà di sperimentare nuove metodiche che portino nuove cure e percorsi più efficaci Se ne è parlato a Palazzo del Pegaso per fare un bilancio di quanto realizzato fino ad ora e tracciare le prospettive future Dentro questo centro di eccellenza si svolgono diverse attività di ricerca in ambito della riabilitazione quindi c'è la volontà di sperimentare nuove metodiche di riabilitazione che portano ai pazienti migliori cure e percorsi più efficaci Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti e da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo ciò appunto è in considerazione del fatto che fare ricerca migliora la qualità dell'assistenza che viene offerta al paziente perché costringe ad un confronto continuo anche con le altre strutture che a livello internazionale operano in ambito riabilitativo e con le quali abbiamo stabilito delle collaborazioni nei nostri protocolli di studio Ricerca e sperimentazione presa in cura accurata con attenzione non soltanto alla parte sperimentale innovativa ma soprattutto alla qualità della vita delle persone questo è il lavoro che si fa alla clinica di riabilitazione come spiega Simona Dei, direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est è un punto di riferimento fondamentale perché nel centro di Terranova Bracciolini noi abbiamo un momento di ricerca, un momento di sperimentazione un momento di presa in cura accurata strettamente integrato nei percorsi delle persone e in una fase particolare di fragilità della vita ci sono tanti progetti insieme a loro, progetti sul campo questi due anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale soprattutto fatta sul campo il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo e questo è quello che viene fatto al centro da sempre con accuratezza, con attenzione non soltanto alla parte sperimentale innovativa ma soprattutto alla qualità della vita delle persone perché non sempre l'innovazione tecnologica, l'innovazione professionale punta alla qualità questo è fondamentale lì si curano persone che hanno anche grandi miglioramenti ma si curano persone che purtroppo per la loro situazione possono non avere enormi miglioramenti in quel caso ciò che conta e ciò che la sperimentazione porta avanti e l'innovazione porta avanti è la loro qualità di vita